Ciao a tutti ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video, sono tornata, non sono sparita, non mi sono dissolta nel nulla cosmico, semplicemente avevo bisogno di ricaricarmi, avevo bisogno di ritrovare un equilibrio che nel 2021 era andato totalmente via lontano da me anni luce e di conseguenza appunto ho preferito allontanarmi un attimo da questo spazio per concentrarmi su altro e ritrovare un po' il mio equilibrio e il mio benessere interiore. Sono super contenta di essere tornata su questo canale perché mi mancava tanto parlare con voi, mi mancava tanto girare un video, non vedo l'ora di editarlo, non vedo l'ora di pubblicarlo, di sapere come state, soprattutto vi chiedo questo, ragazzi come state, come è iniziato il vostro 2022, spero che sia andato tutto per il meglio. Questo video vuole essere un po' un video di ritorno, un video un po' di racconto, tra virgolette, e vi vorrei raccontare brevemente anche le cause, diciamo, i motivi della mia assenza su questo canale. Ho continuato comunque a essere attiva sul canale SMR e su Twitch in particolare perché ho iniziato a fare live su Twitch a ottobre 2021, live SMR, vi lascio il link giù nell'info box nel caso in cui vogliate andare a dare un'occhiata, social che mi sta dando tantissime soddisfazioni e che proprio sto amando tantissimo, quindi mi trovate proprio attiva tre volte a settimana, ogni lunedì, martedì e giovedì dalle 22 fino a mezzanotte e mezza circa siamo in live, però appunto mi mancava parlare con voi normalmente, mi mancava condividere un po' i miei giornate, i miei pensieri e adesso appunto vi racconto un po' cosa è successo nel 2021. Il 2021 per me è stato un anno molto molto difficile, in particolare nell'ultimo video pubblicato sul canale forse si vede che non sono proprio serena, che non ero proprio serena, si può forse notare dal mio viso, ma è stato un anno molto stressante sia mentalmente che fisicamente, cioè più che altro fisicamente per delle conseguenze diciamo di una sorta di malessere mentale, in quanto ci sono state delle situazioni appunto in cui persone molto vicine a me, una persona molto vicina a me è stata molto male ricoveri in ospedale, insomma motivi abbastanza seri per più mesi e poi appunto è stato tutto uno stress generale, preoccupazioni, ansie dovuti appunto a queste motivazioni e poi appunto si sono aggiunte altre situazioni che mi hanno creato appunto uno stato di malessere ed è per questo appunto che verso appunto l'estate del 2021 ho detto ok adesso basta, quando le cose finalmente poi sono andate tutte per il meglio nel senso che ora la situazione più fortuna è rientrata, tutto a posto quindi se si è tornati a una serenità comunque a una tranquillità da quel punto di vista e non è assolutamente poco, diciamo che avevo bisogno di ricaricare le energie, le avevo consumate talmente tante in quei mesi che avevo proprio bisogno di staccare, avevo bisogno di dedicarmi a qualcos'altro, trovo bisogno di riprendere in mano la mia vita e piano piano mi sembra ad oggi le cose sono tornate a essere quotidiane, a essere normali, mi sto dedicando alle mie attività, mi sto dedicando all'università, ho iniziato a fare qualche lavoretto qua e là quindi sto iniziando anche ad approcciarmi un po' a questo mondo del lavoro per quanto appunto in una prima e embrionale diciamo esperienza appunto sto facendo queste live su Twitch che mi stanno soddisfacendo tantissimo e mi riempiono ovviamente di gioia perché parlare con voi, parlare con appunto chi mi segue in diretta, poter sapere di più su di voi, su che cosa fate, poterci rilassare insieme grazie appunto all'SMR per me tantissimo e quello per me è stata un po' una sorta di terapia, qualcosa di cui avevo bisogno, uno sprono, diciamo qualcosa che mi ha spronato, dire cavolo stai facendo qualcosa di buono, continua per questa strada, continua a fare le tue cose, non demordere, non ti abbattere, quindi eccomi, spero che appunto il mio ritorno vi possa far piacere, spero di trovarvi attivi nei commenti, spero di sapere come state, come stiate e vi volevo un po' dire appunto, vi vorrei raccontare un po' quelle che sono le mie intenzioni per questo canale, intanto non lo so se l'avrò fatto ancora con certezza ma penso di cambiare il nome del canale, ebbene sì, io sono una persona che resetta spesso le cose, forse anche troppo, ho imparato tanto nel 2021, adesso poi vi racconterò, ho imparato tanto nel 2021 che per me è stato un anno molto duro, ma anche estremamente utile dal punto di vista della mia formazione, della mia crescita, della mia maturazione personale, e penso appunto che sia arrivato il momento di cambiare il nome a questo canale, non lo so se lo farò fatto con certezza finché non pubblicherò questo video, non lo saprete neanche voi, ovviamente, ovviamente, però sto pensando appunto di chiamarlo semplicemente Michelle, o Michelle con una sorta di sottonome, togliere Sweet Lemonade, anche se è un nome super carino, che mi piace molto, voglio che questo canale rappresenti me al 100%, voglio essere io, senza filtri, il più possibile, perché a me piace appunto essere così, e quindi voglio partire appunto dal nome del canale, può sembrare una sciocchezza, però secondo me ha la sua rilevanza, e quindi appunto cosa porterò su questo canale? Quello che vi avevo accennato comunque all'inizio, quando avevo aperto questo spazio, mi piacerebbe appunto portarvi con me nelle mie giornate, continuare a parlare di libri, fumetti, quando appunto ne ho voglia, quando ho qualcosa da raccontarvi, parlare di varie tematiche che mi stanno a cuore, e magari fare qualche vlog, purtroppo tutta la mia intenzione di portarvi con me nel mio percorso universitario è stata un po' fallimentare, sia perché poi il 2021 è stato un anno assurdo, ma anche perché l'università è andata benissimo comunque, è l'università top, però non ho fatto praticamente mai lezioni in presenza, quindi fare dei vlog non potendo veramente toccare con mano l'accademia mi sarebbe dispiaciuto, quindi forse incrociando le dita da questo secondo semestre che sta per iniziare, forse, non lo so con certezza, potremmo iniziare a fare più presenze rispetto a prima, e appunto riuscire a portarvi con me nel mio percorso scolastico, farvi vedere un po' alcune cose, condividere, magari fare qualche study vlog prima degli esami, condividere insomma delle mie giornate tipo da studentessa dell'università, che purtroppo ancora non sono riuscita a condividere, neanche a vivere a pieno, perché la pandemia e tutta la situazione non ci ha permesso di farlo con serenità. Questo nuovo inizio vi faccia piacere, non so con quanta cadenza riuscirò a pubblicare video, cercherò magari di pubblicare almeno un video a settimana, ci proverò, ve lo prometto, non sono sicura, ma ci proverò, perché sono veramente super piena di impegni, però sentivo proprio la voglia, la necessità di ritornare qui, e dopo questa lunga pausa di otto mesi, avevo proprio voglia di tornare, e anche se sono veramente piena di impegni, penso che il tempo per girare un video editarlo, magari riesco a incastrarlo, quindi tra appunto varie cose. Poi magari vi racconterò con l'andare dei video, le varie esperienze che sto facendo in questo periodo, cosa è cambiato nella mia vita nell'ultimo anno, mi piacerebbe appunto coinvolgervi un pochino nella mia routine, nella mia quotidianità. E nulla ragazzi, io spero che questo video in realtà che è molto molto breve, super breve, tra l'altro ho cambiato sfondo, fatemi sapere se vi piace, devo dire che non mi dispiace per niente, è molto minimal, ma secondo me è d'effetto, non lo so, mi piace, potrebbe diventare lo sfondo tipico dei miei video, in realtà questa è la testata del mio letto, semplicemente la testiera del letto. E nulla ragazzi, vi mando un super abbraccio, questo video è super breve, in realtà mi piacerebbe raccontarvi molto di più, magari girerò un video più specifico, questo diciamo era un po' un recap, un ehi ragazzi sono tornata, sappiatelo, però in realtà appunto mi piacerebbe fare vari video anche su vari temi, su temi diversi, approfondendoli ovviamente con più, approfondendoli meglio. E nulla ragazzi, vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima, ciao!